Io sono Francesco Cecchetti e progetto Giardini. Penso a Giardini, consulenzo Giardini e almeno soprattutto le persone che vivono in questi giardini o terrazzi o case e parlo di giardini e ne parlo in questo podcast che si chiama Giardino Rivelato che è un podcast per le persone che ritengono che abbiamo tutti bisogno di un giardino e proprio perché abbiamo tutti bisogno di un giardino credo che gli argomenti che riguardano le nostre case siano particolarmente importanti, importanti perché insomma riguardano le case e quindi il modo in cui ci rapportiamo al nostro mondo naturale, alla nostra visione della natura, agli elementi che per noi compongono la natura come gli alberi per l'appunto e pochi giorni fa mi è capitato di parlare con questa persona che mi raccontava di questo albero che è stato tagliato, un cedro che è stato abbattuto e questo cedro era stata la causa per lei della decisione di andare a vivere in un posto in questo appartamento perché al quinto piano di un palazzo arrivavano le fronde di questo albero, c'erano gli uccelli, si sentiva il vento tra i rami, insomma le piaceva tantissimo ma poi recentemente questo albero è stato abbattuto e adesso lei vede il palazzo di rimpetto. Ora mi chiedeva quanto tempo ci mette un albero a crescere fino lì e io ci vorrei rimettere un cedro e non è che mi avesse dato grandi indicazioni su questo spazio però mi ha appunto spiegato che non c'era lo spazio per poter mettere un albero grande a diciamo una distanza ragguardevole dalla casa perché un cedro è grande no? Un cedro è di grandi dimensioni e quindi io mi chiedevo come come fai a far crescere un albero in uno spazio che non è il suo? Come come fai a chiedergli di rimanere accettabile in poco spazio, di non crescere e di stare bene al tempo stesso. Ora una delle cose che questa persona mi diceva era proprio che questo albero stava benissimo invece l'hanno tagliato insomma eppure questo albero che ha vissuto decenni in questo spazio è stato abbattuto, c'è stata una perizia che io non ho potuto leggere perché appunto mi è stata raccontata questa storia e c'è stata una perizia e quindi c'è stato un abbattimento e questo albero poi non è stato rimosso, non è stato rimosso, non sono state rimosse le radici quindi è rimasto questo monumento a questo albero abbattuto. Ora io immagino tu abbia capito di che pianta stiamo parlando, un cedro e i cedri sono enormi, insomma arrivano a 30 metri di altezza se non di più, addirittura alcuni esemplari a 40, è un tronco che ha un diametro di più di un metro, un metro e mezzo e con chiome che sono molto 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 larghe e queste chiome larghe spesso appunto vengono ridotte per poter convivere con le nostre case, con i nostri balconi, con i nostri palazzi e quindi magari poi vengono fatti tagli importanti su piante che sono già cresciuti, sono già cresciute in luoghi che non sono proprio adatti a una vita selvaggia come i monti dell'Atlante da cui il cedro dell'Atlante per esempio viene. Allora immaginiamo io ho messo questo cedro in un cortile, questo cortile sarà di 9 metri per 10 e quindi io mi domando ma questa pianta riesce a svilupparsi, a dare il meglio di sé in questi 9 metri per 10 e poi io vuol dire che da un lato avrà le fondazioni dell'edificio, dall'altro magari ci saranno degli interventi sul manto stradale perché questo condominio poi dà sulla strada e quindi poi bisogna stare attenti che le radici non diano problemi all'asfalto e marciapiedi e quindi poi magari vengono tagliate quando vengono fatti dei lavori. Tutte queste cose qui influenzano la salute di quest'albero, non solo il fatto stesso di avere le radici coperte ad asfalto per metà perché appunto si trova vicino a una strada, fanno sì che queste radici non abbiano un terreno sano al di sopra e lo stesso vale per la parte con le fondazioni. Quindi sì quell'albero stava bene, ha fatto del suo meglio per 40 anni e poi alla fine in realtà era malato, sembrava che stesse bene ma insomma no e voglio dire questo non è un concetto difficile da capire, tante malattie umane o animali in generale non sono visibili, non ti danno l'impressione di appunto di deperimento per poi all'improvviso arrivare e sono sono delle tragedie. Questa cosa può capitare e capita anche agli alberi quindi io ti invito ogni volta che giudichi un abbattimento come non necessario a fare attenzione a questa cosa, a fare attenzione a questo giudizio che stai dando ma stava tanto bene, lo sai, ne hai la certezza di questa cosa. La stessa cosa vale per i pini, hanno abbattuto quell'albero, era un albero plurisecolare ma stava tanto bene. Eppure è proprio quello il problema, i pini, il pino domestico, il pino ombrello, il pinus pinea, il pino di Roma che non è il pino marittimo, è una pianta, non è longeva come un cedro per esempio, pare che uno dei pini più antichi abbia circa 300 anni. In città non arriveranno a quell'età, in città arriveranno 80 anni, 100 anni, 120 anni, 80 anni è tanto per un pino in città, piantato in mezzo all'asfalto, sui marciapiedi e tutte queste cose qui. Vicino a una casa con le radici che vengono tagliate in continuazione, l'umidità, niente aria nel terreno, insomma mettiti nei panni di questo povero pino e chiediti se vuole veramente sopravvivere. Gli alberi non sono solo simboli, gli alberi sono degli esseri viventi e vanno scelti bene. E quindi io come faccio a capire che albero mettere nel cortile di un condominio? Beh, devo essere realista e capire qual è lo spazio che ho a disposizione. Probabilmente non riuscirò a mettere in un piccolo cortile un albero che arrivi fino al quinto piano di un palazzo. Dovrò mettere un albero molto più piccolo che mi permetta di avere ombra fino a una certa altezza. Ipotizziamo un albero che arrivi al massimo dello splendore a 10 metri, 12 metri, 15 metri, che faccia ombra in estate, che aiuti a fare ombra sul terreno, non solo sulla facciata, che possa svilupparsi con il suo apparato radicale. Non un albero che cresce tantissimo. Non può essere solo un criterio estetico, deve essere anche un criterio pratico. La scelta delle piante è un qualcosa di pratico. E quindi abbiamo risposto alle tre domande. Cioè, se un grande cedro, ad esempio, può convivere con la nostra casa, beh, magari può convivere, ma un po' più lontano. Quindi forse se il tuo giardino è schiacciato tra una casa, tra il condominio e la strada, probabilmente no. Servirebbe, insomma, qualche decina di metri perché quest'albero stia bene. E poi come fare a capire che albero è mettere nel cortile di un condominio? Ce lo siamo detti. Capisci che spazio hai. E se siamo sicuri che quell'albero che hanno abbattuto stesse davvero male, beh, prova a chiedere una perizia agronomica. Prova a chiedere il consiglio di un arboricoltore esperto o esperta e leggila. Insomma, servono a questo queste professioni. Voglio sapere che ne pensi. Voglio sapere qual è la tua esperienza. E se ti ha deluso questa mia risposta, cioè se speravi di trovare una soluzione che ti facesse ottenere quello che volevi, cioè di piantare un albero enorme in poco spazio, spero, insomma, che questa delusione passi in fretta. Ci sono tanti modi per rendere le nostre città più vivibili e le nostre case più vivibili. E uno di quelle è dare più spazio agli spazi liberi, agli spazi in cui il suolo è scoperto. Se sei la persona con cui ho parlato pochi giorni fa, spero che questo continuo, questo proseguire della nostra chiacchierata possa esserti, insomma, di spunto e che possiamo continuarla poi in futuro. Lasciami un commento qui sotto, ci vediamo, ci sentiamo su giardinorivelato.it e ti ringrazio di aver fatto questa chiacchierata con me, con la scusa dei giardini.